cari figli vi invito a pregare non chiedendo ma offrendo sacrifici sacrificandovi vi invito all'annuncio della verità e all'amore misericordioso prego mio figlio per voi per la vostra fede che diminuisce sempre di più nei vostri cuori lo prego per aiutarvi con lo spirito divino come anche io desidero aiutarvi con lo spirito materno figli miei dovete essere migliori solo coloro che sono puri umili e colmi d'amore sorreggono il mondo salvano se stessi e il mondo figli miei mio figlio e il cuore del mondo bisogna amarlo e pregarlo e non tradirlo sempre e nuovamente perciò voi apostoli del mio amore diffondete la fede nei cuori degli uomini con il vostro esempio con la preghiera e con l'amore misericordioso io sono accanto a voi e vi aiuterò pregate affinché i vostri pastori abbiano sempre più luce per poter irradiare tutti coloro che vivono nelle tenebre vi ringrazio grazie 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 grazie